amici dell'orizzonte degli eventi buonasera a tutti bentornati e ricominciamo con l'appuntamento del venerdì ma poi vedremo che faremo anche altre giornate dedicate alle live do il bentornato dopo le vacanze a mario iannacone ciao mario ciao barbara ben ben trovato ben ritornato ricominciamo appunto a fare questi incontri dal vivo era sempre più serena sì sì beh cerchiamo comunque di rifugiarci nella storia anche per capire il pasto rifugiarsi nel passato per capire il presente perché come vedremo stasera l'argomento è solo apparentemente storico in realtà ha degli agganci molto molto interessanti con l'attualità di questa guerra energetica di cui purtroppo siamo presi in mezzo anche a causa delle bollette allora perché parliamo dell'eni allora l'eni è stata una ed è ancora ma come vedremo ha subito diverse mutazioni l'ultima delle quali molto green molto verde l'eni è stato un un cliente pubblico che ha gestito l'energia approvvigionamento di energia petrolio gas e poi ha avuto anche un'espansione nel settore della chimica che ha segnato la storia dell'italia fino dal 1953 quando viene fondata e a capo di dell'eni c'è un personaggio fondamentale per la sua storia enrico mattei enrico mattei che muore in circostanze eh drammatiche ormai è assodato dopo le la riapertura delle inchieste del 92 mi pare negli anni 90 comunque della procura di di pavia è assodato che si trattò di un non di un incidente ma di un attentato e quindi la morte di mattei segnò un un interruzione eh ma anche un cambio di eh di direzione dell'eni i capi i presidenti successivi più famoso dei quali è eugenio fu eugenio cefis traghettarono l'eni verso la chimica quindi la mont edison poi arrivò arrivarono i tempi della animont eh la figura di di Raul Gardini e poi il eh il l'uragano tangentopoli il britannia le privatizzazioni e lì ci fu proprio il cambio di paradigma fino alla così alla versione attuale molto verde dove questo cane eh a sei zampe non ha più la sua fiammella e guarda così al sole eh quindi non più guardare verso la terra verso il petrolio ma verso il sole ecco cercheremo di fare una storia dell'eni di questo ente importantissimo eh a partire dalla proprio dall'inizio dalla dalla sua eh dalla sua storia anche con una con un antecedente e perché l'eni nasce dalla dall'agip quindi vediamo di iniziare questo questo racconto qui vediamo l'evoluzione ecco del del marchio dall'agip che viene fondata nel 1926 fino al 2009 e verso oltre l'infinito si direbbe per citare il 2001 di se nello spazio allora Mario eh ti lascio la parola e iniziamo a eh definire l'importanza del del petrolio petrolio è eh un un elemento naturale che condiziona la vita degli umani da un certo momento in poi della storia e oggi particolarmente sì in realtà da tempi recenti qui vediamo in questa immagine Drake il famoso Drake che una volta si studiava a cui vita si studiava a scuola che eh nel 1859 in Pennsylvania ehm costruisce il primo pozzo petrolifero e da lì poi nei nei decenni successivi piano piano si comprenderà l'importanza eh del petrolio non solo per illuminare eh le lampade come come viene fatto nei primi anni con il carosene ma poi anche proprio per eh creare creare l'energia e già negli anni dieci anni venti il petrolio ha un'importanza fondamentale nella eh generazione di energia allora purtroppo eh dobbiamo dire che la nostra la nostra Italia ha sempre avuto un problema da questo punto di vista mentre altre nazioni eh avevano molto carbone ad esempio o avevano appunto il petrolio o avevano il gas naturale che comincia a essere estratto poco dopo l'Italia invece non ha mai avuto questo tipo di ricchezze se non è in una forma molto marginale eh il carbone beh magari qualcosa potremmo dire del carbone perché il carbone è in Sardegna ehm diventa una eh una fonte energetica di una certa importanza negli anni quaranta cinquanta sessanta settanta poi si esaurisce insomma eh a noi a noi italiani mancava il petrolio e per molto tempo eh il petrolio viene estratto soprattutto da società inglesi da società americane in minima parte da società olandesi quindi sono soprattutto gli americani che fanno la parte del leone e mh e ci si ehm disinteressa un po' di questo di questo eh problema eh l'Italia è già avviata all'industrializzazione però eh diciamo così che soltanto eh dopo qualche tentativo soltanto nel 1926 eh il governo eh italiano il governo fascista il governo di Mussolini ehm nell'aprile del 1926 con un una legge apposita eh costituisce l'azienda generale italiana Petroli eh che è un'azienda che aveva lo scopo eh di ehm diciamo svolgere ogni attività che fosse relativa all'estrazione alla trasformazione alla commercializzazione alla distribuzione del eh del petrolio ehm e ehm dà ampio mandato all'Agip eh per cercare il petrolio in Italia e anche fuori dall'Italia in quelle che erano considerate le colonie eh italiane nel Nord Africa o eh comunque comincia anche a fare eh da mandato di fare delle eh società miste anche con gli inglesi anche con gli americani eh società nelle quali entrano anche i tedeschi ed altre nazioni ehm per eh cercare eh petrolio eh per esempio in Romania per esempio in varie parti del Nord Africa ehm eh e eh diciamo che eh c'è ecco questo per esempio sono i pozzi eh agip della della Romania eh che vengono aperti da eh volpi di misurata eh che è uno dei grandi protagonisti di 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 questo momento magari dopo lo vedremo col suo cilindro ehm eh uno di di quelli che insomma ecco eh fa agisce eh come eh capitano eh capitano di industria come eh uomo che ha moltissimi mezzi a molti collegamenti internazionali eh e aiutato dalla commit di Turplitz e di Joel eh diventa diciamo uno dei eh dirigenti del dell'Agip non direttamente ma eh ecco fa fare per esempio questi 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 tentativi in Romania che però non non hanno poi eh successo anche perché poi scoppia la guerra e e quindi succede quello che succede di fatto tutti questi impianti vengono distrutti ehm l'Agip però ha una eh all'inizio ehm ha un eh come dire una missione aziendale eh molto ampia eh quello che interessava eh all'Italia del tempo naturalmente era eh avere avere l'autonomia energetica perché si era compreso che senza il petrolio l'Italia non poteva essere modernizzata e siccome uno dei delle 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 missioni o dei sogni dell'Italia fascista era modernizzare senza il petrolio non si poteva fare ecco perché agiscono eh in questo modo eh cercano anche collaborazione c'era collaborazione anche con stati eh stranieri e riescono bisogna dire a a fare a fare a fare abbastanza anche se di petrolio ce n'è ancora poco. Allo stesso tempo ehm creano ehm creano delle industrie che eh utilizzando eh prodotti eh diciamo petroliferi o eh derivati eh o comunque collegati eh ad esempio eh riescono a dare autosufficienza ad Italia nel campo dei fertilizzanti. perché viene creata eh l'azienda nazionale eh combustibili quindi Anic che ha una sede a Ravenna questo è il vecchio stabilimento poi ne viene costruito uno nuovo alla fine degli anni quaranta riesce a eh dare autosufficienza all'Italia nel campo dei fertilizzanti praticamente. cosa che oggi non abbiamo più. Oggi noi sappiamo che ecco cominciamo a fare dei collegamenti con il presente che un grande problema dei nostri coltivatori, dei nostri agricoltori è che non che devono importare i fertilizzanti dall'estero e questi fertilizzanti sono triplicati, quadruplicati perché non vengono fatti qui, non vengono fatti con dei sistemi che eh sono molto molto costosi. avevamo anche una notevole flotta di 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 petroliere. Questa è una nave cisterna Giulio Giordani dell'Agip. Certo, questa era una nave, una delle navi della della flotta dell'Agip. Non erano tantissime ma ne stavano costruendo nei cantieri Ansaldo. eh questa qui era stata varata nel venticinque, entra in funzione nel ventisei e credo che che non sia stata distrutta dalla guerra, credo eh. Ed erano delle delle diciamo delle belle navi, erano già delle petroliere queste eh costruite interamente in Italia. questo per dire che la preoccupazione per eh creare una filiera del petrolio completa dalla prospezione eh individuazione dei giacimenti alla trivellazione eh distribuzione eccetera eccetera c'era. Ecco l'Agip poi fa un'altra cosa attraverso una controllata. l'Agip di questo periodo crea una rete di distributori eh di di benzina. È benzina che per lo più arriva dall'estero chiaramente perché l'Agip ancora non riesce a produrre di suo, sta cercando e mh questo eh capitale di sei mila distributori se non sbaglio eh passeranno poi a Leni e quindi Leni si troverà già con un buon ehm così tesoro ecco di eh di strutture e di eh macchinari. Se mi permetti vorrei fare eh a questo punto prima di continuare a parlare del dell'Agip e di altre realizzazioni di questo eh che poi in un certo periodo storico dopo la guerra viene definito mh senza senza molto realismo carrozzone fascista perché dopo ne parleremo quando viene fondata Leni in realtà eh c'era quasi la la volontà di disbettere questa questo questo settore forse anche lì nel nel novero della della cancellazione della sovranità nazionale dal punto di vista energetico. A questo punto eh però mh faccio un piccolo flashback per parlare di un di un caso eh interessante che riguarda un famosissimo e tragico eh episodio della nostra storia cioè il delitto Matteotti il rapimento e eh uccisione immediata eh del mh del parlamentare ehm Matteotti nel 1924. Ecco ehm molti eh storici eh compreso anche ehm ha scritto un libro anche il figlio di Matteotti ha ricondotto questa vicenda e poi vedremo anche quando farò vedere dei 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 suggerimenti dei suggerimenti di lettura alla fine alcuni libri hanno eh ripreso questa teoria questa questa spiegazione del del delito Matteotti l'hanno inserita appunto in questa eh in questo filone della sovranità limitata italiana. Ecco ehm nel 1924 si dice che Matteotti fosse entrato in possesso di documenti scottanti che eh rappresentavano la prova di una trattativa segreta condotta dalla compagnia petrolifera Sinclair americana legata alla standard oil e ambienti italiani tra cui si dice anche la 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 casa reale per ottenere una concessione novantennale in totale monopolio della ricerca petrolifera in Italia sul territorio italiano specificamente in Emilia e in Sicilia e questo avrebbe dovuto entrare in vigore con un decretto legge che però fu respinto il 3 dicembre di quello stesso anno. Ecco Matteotti avrebbe avuto in mano le carte con le prove di questa eh di questo scandalo primo grande scandalo petrolifera della nostra storia e questo spiegherebbe anche la sua eh la sua esecuzione in pratica. Ecco qui eh c'è effettivamente un un caso eh molto grave eh che colpisce non solo il regime che è eh ai suoi inizi ma eh anche la casa reale e mh fa intuire come le superpotenze comunque i impotentati economici eh di di sempre di soprattutto di quell'epoca eh avessero già messo le le gli occhi sull'Italia e questo smentisce anche l'idea che in Italia non ci fosse non ci fosse petrolio non ci fosse eh nessuna risorsa perché se erano pronti a mh a volere a tutti i costi questo questa concessione in monopolio si vede che pensavano che qualcosa da 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 ottenere ci fosse. Ecco quindi questo è un un antefatto nel 1924 poi nel 26 come dicevi tu nasce l'Eni eh scusate l'Agip che poi diventerà in seguito l'Eni. Quindi proseguiamo con questa storia perché poi arriviamo anche agli anni trenta dove c'è un altro caso eh importante ma ne parliamo dopo. Sì io eh passerei adesso alla diciamo alla alla costituzione alla alla guerra se se vuoi parliamo prima del caso del 38. Ah sì eh sì 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 allora ehm un collaboratore di eh di eh di Enrico Mattei Benito Livigni che ha scritto diversi libri sul suo presidente dell'Eni ehm e che lo conosceva molto bene appunto era un suo strettissimo collaboratore ha raccontato questo fatto lo si trova anche un una conferenza dove lui racconta questo episodio eh siamo nel 1934 e questo questo episodio gli fu eh raccontato in prima prima di prima mano proprio da questo signore che si vede nella foto che era Dino Grandi il ministro degli esteri del governo Mussolini. Ecco Dino Grandi raccontò a Benito Livigni che nel 1934 l'Italia eh attraverso dei negoziati molto intensi era riuscita a a ottenere una concessione importantissima niente meno che in Iraq eh costituendo eh questa Mosul oil field che di fatto aveva anche un avrebbe avuto un potere di eh di decisionale all'interno del del consiglio di amministrazione ed era una veramente un un passo avanti sarebbe stato un passo avanti molto importante per l'Italia mettere le mani partecipare alle estrazioni petrolifere in Iraq. Fatto sta che quando eh però ehm Grande ritorna a Roma e racconta Mussolini di questo di questa importante ehm importante ehm importante conquista. Poco dopo c'è la l'invasione dell'Etiopia l'Inghilterra eh in qualche modo eh ricatta eh minaccia l'Italia di eh ritorsioni e una di queste ritorsioni si pensa che fosse legata proprio a questa a questa concessione petrolifera. Di fatti eh Mussolini non 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 fa nulla per andare avanti in questa in questa operazione e di fatto poi finisce tutto non in Iraq allora riuscirono a cacciarci dall'Iraq. Certo. Tra l'altro l'Italia aveva una maggioranza nel pacchetto azionario del 52% per cui di fatto la comandava alla dentro a questa Mosul Oil Fields quindi e avevano promesso una produzione di tre milioni di barili di petrolio all'anno quindi tanti e quindi questa retromarcia fa capire che diciamo grossi eh interessi stranieri erano entrati non si insistette all'epoca perché già la 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 situazione era molto tesa per perché l'Italia dava fastidio in quanto si stava muovendo troppo anche all'estero e eccetera eccetera no quindi l'Italia doveva restare sotto no come come oggi nel campo energetico. Arriviamo allora alla 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 costituzione del Veni cosa succede dopo la guerra succede che vabbè intanto eh introduciamo questa figura di di Enrico Mattei di cui poi parleremo anche settimana prossima no Barbara perché ricorre il sessantesimo anniversario di questo attentato attentato esatto di Bascapè. Enrico Mattei è una figura interessantissima e questo lo sanno tutti è un personaggio che nasce umile eh ma è lui è marchigiano comincia a fare lavori lavori umili prima è un è un manovale poi poi lavora in una conceria poi si sposta a Milano è molto intraprendente crea una società di produzione di oli eh e diventa eh anche piuttosto abbiente direi direi anche ricco no per quanto poi si si è si è saputo delle 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 sue sostanze cioè ha successo nel suo campo ehm è inserito negli anni trenta eh primissimi anni quaranta nella società italiana eh come poteva essere inserito un industriale del tempo pare fosse anche iscritto al al partito fascista ma comunque quando eh comincia la guerra eh diventa partigiano diventa partigiano comunque si unisce alle brigate eh bianche cioè quelle cristiane quelle che poi erano eh diciamo il nucleo della democrazia cristiana ehm e ehm lui non è un combattente quanto un organizzatore no trova finanziamenti è molto bravo in queste cose ehm così eh quando finisce la guerra lui si trova in una eh posizione ehm particolarmente favorevole in quanto è capo di una eh brigata o comunque a a capo di di formazioni partigiane bianche che lui eh dice essere molto numerose forse forse esagera anche con i numeri parla di ottantamila uomini probabilmente erano meno ma soprattutto diventa subito ehm ehm un fedele di eh personalità eh in ascesa della della democrazia cristiana uno uno gli viveva viveva di rimpetto a lui e adesso non ricordo chi fosse ma era un un pezzo grosso della 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 democrazia cristiana appena formata cioè formata ma che si stava eh affacciando al al panorama politico italiano come partito ehm e eh succede che a un certo punto lui viene eh nominato proprio perché ehm si ritiene che sia un personaggio ehm su cui si possa investire fiducia anche da parte degli americani in quanto non è un comunista in quanto non è un socialista non guarda l'Unione sovietica ma guarda all'America ehm comunque ai ai liberali e mh diventa commissario eh della ehm liquidatore dell'agip cioè gli dicono nessuno vuole entrare nell'agip pare che ci sia stato uno scaricabarile anzi non solo pare ma è così quindi alcuni personaggi vengono nominati e dicono no preferisco fare qualcosa di più importante non si dava nessuna importanza all'agip anche perché l'agip aveva avuto tutte le sue eh industrie distrutte le due raffinerie distrutte e quindi poi non c'erano c'erano pozzi tutti i contratti che aveva in essere erano stati rescissi e lui eh in teoria deve cominciare a liquidare l'agip però ehm nicchia nel senso che eh si rende conto eh che eh questa questo appunto che veniva definito carrozzone fascista in realtà aveva un valore la cosa che eh gli fa saltare diciamo la la curiosità eh all'occhio è il fatto che gli americani vogliono comprargli cioè gli offrono di comprare le attrezzature eh della dell'agip che che erano soprattutto nella zona della Valpadana eh per una cifra molto alta 60 milioni di lira dell'epoca e questo lo fa pensare e dice no aspettiamo un attimo se mi offrono così tanto vuol dire che qualcosa c'è che non è solo una un'invenzione una fola anche perché c'era quel precedente della Sinclair che voleva che voleva la concessione certo e poi si favoleggiava di ehm di giacimenti nella appunto nella Valle Padana a Corte Maggiore e in altri posti eh dei dirigenti dell'agip precedente e infatti lo incontrano e e diventeranno poi i suoi collaboratori e gli diranno guarda che eh stavamo facendo delle cose importanti siamo riusciti a combinare poco ma ci sono delle grandi possibilità quindi cerchiamo di sfruttarle e quindi eh a un certo punto eh si nota una sorta di ehm tira e molla perché ci sono dei personaggi che sono legati alla eh gli americani e gli inglesi che vorrebbero dismettere l'agip e e dalla soltanto alle società private e c'è invece una parte della democrazia cristiana che sarà poi espressa soprattutto dal ministro delle finanze Banoni e Ziovanoni ma anche da De Gasperi che all'inizio ha qualche dubbio poi invece viene convinto ehm questi invece eh cominciano a eh appoggiare Mattei nella sua idea di mantenere eh l'agip e non solo di rafforzarla e ci sono delle eh questo in questo periodo delle eh interessanti e anche abbastanza inquietanti ehm scambi di eh informative ehm fra eh americani e alcune parti del governo italiano inglesi americani e ancora italiani eh nei quali si eh sostiene che questi 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 qui i Mattei, i Vanoni ma anche lo stesso De Gasperi stanno eh ledendo il diritto eh eh delle società private in gran parte americane perché già ci sono quelle che lui chiamò le sette sorelle no eh ad avere libero accesso al mercato italiano e che loro consideravano soprattutto questa è una dottrina americana eh che il diciamo il mercato energetico dovesse essere pubblico eh scusa eh chiedo scusa questo è esattamente contrario era Mattei che lo considerava che che aveva questa idea era Vanoni ed era De Gasperi invece gli americani diceva che doveva essere privato e se uno stato eh impediva il libero accesso dei privati eh alle alle loro risorse energetiche eh questo le deveva era proprio una dottrina scritta le deveva le ehm i diritti strategici dello Stato americano eh questo ci porta ad oggi anche eh non solo per gli americani ma anche per gli inglesi e probabilmente per altri eh però lui tiene duro tiene duro anche innanzitutto perché è un personaggio eh vigoroso eh che ha un una visione strategica mh di amplissimo ehm orizzonte cioè capisce che l'Italia senza il petrolio e senza il controllo del petrolio non non poteva andare da nessuna parte sarebbe rimasta una nazione agricola o semi industrializzata ma comunque eh non poteva non poteva eh arrivare dove dove doveva arrivare e viene fortunatamente appoggiato da appunto da De Gasperi a un certo punto in modo molto molto sicuro da appunto da Vanoni poi da Mintori Fanfani cioè da quella parte eh della DC che elabora addirittura dei testi che eh sembrano in quel periodo quasi eh anticapitalistici cioè sono quasi eh sono quei quei testi diciamo eh di del pensiero politico di in quel tempo in cui interesse eh eh collettivo doveva prevalere su quello ehm su quello privato o o o o o o o o di o di certe eh società però questo davvero ecco ehm c'è poi un iter eh diciamo di creazione della dell'azienda che va avanti qualche anno ehm tra il 47 e il 53 comunque diversi anni ecco c'è c'è molto dibattito ehm e si arriva a un certo punto alla legge costitutiva dell'ENI che è del gennaio del 1953 quando lo stesso Vanoni eh pronuncia un discorso molto bello insomma secondo me anche nel quale eh indica che l'esigenza di nazionalizzare quell'azienda e di far sì che questa non sia un'azienda semplicemente ma un ente pubblico era strategico era fondamentale per l'Italia. Eh Mattei eh naturalmente eh è l'uomo giusto per guidarla. Eh è l'uomo giusto per guidarla. Tra l'altro Mattei in quegli anni si è rappresentato come deputato, era stato eletto e quindi aveva preso anche un un peso importante all'interno della democrazia cristiana. Eh ecco a questo punto eh si crea la l'ENI. Si crea l'ENI ehm che eh subito viene eh a cui subito viene dato un marchio eh che è il famoso cane a sei zampe, no? Eh viene fatto disegnare eh quasi quasi subito cioè credo lo stesso anno o pochi mesi dopo eh la la creazione dell'ENI e e diventa un marchio come si dice oggi iconico, no? Eh ecco il cane a sei zampe che eh butta fuori del fuoco ehm e poi viene viene fuso con l'ECO. Noi vediamo che tra il 40 e il 52 eh Agip eh e eh eh sì in realtà viene 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 disegnato un po' un po' prima, va bene, c'è un po' dopo però va benissimo. Qui vediamo ecco la progressione e a un certo punto il eh quello diventa insomma il simbolo dell'AGIP, dell'ENI. ENI e AGIP perché lui mantiene ENI e AGIP, ecco questo è importante. Eh l'AGIP eh più che altro per la distribuzione del del petrolio. L'ENI per la trivellazione e non solo e non solo. Qui comincia anche la grande eh espansione del del pensiero eh strategico di Mattei che eh pensa a a tutto quello che può. Tu fermami quando credi eh Barbara. Pronto? Ok ci sono. Non sentivo più. Ecco perfettamente. No dico eh fermami quando quando credi per per quanto per quanto riguarda. Allora eh questa bene quindi abbiamo questo questo eh cane a sei zampe eh che forse viene disegnato dalla dall'Armando Testa. Comunque mi sembra che comunque partecipano alcuni dei personaggi più più importanti della grafica del tempo. Eh eh inizia un grande piano di eh sviluppo di questa azienda. Innanzitutto viene costruita una grande sede eh si esce dalla sede precedente che era quella dell'AGIP che stava in via del Tritone a Roma e si crea una eh sede eh in pochi anni a Leur che è quel grande palazzo. Eh questo è quello di eh questo diciamo è il palazzo di di eh è il grattacielo di eh Metanopoli e questo qui invece esatto questo qui è quello della dell'Eur eh che viene eh costruito eh eh avendo in mente eh l'ONU addirittura no perché lui ha questa e lui eh eh è al suo ultimo piano vabbè insomma diciamo c'è una manifestazione della potenza eh e dell'ottimismo anche in queste costruzioni. L'altra che abbiamo visto prima è il primo grattacielo eh quello a destra eh che viene fatto a Milano eh in una zona di San Donato che viene chiamata Metanopoli dove eh vengono costruite ecco queste nel corso degli anni queste strutture avveniristiche che sono abbastanza impressionanti anche viste ehm oggi eh molto avanti no rispetto se vogliamo rispetto al tempo ehm e che costituiscono un vero e proprio una vera e propria cittadella nella quale tra l'altro eh ci sono ehm anche scuole per i dipendenti ci sono c'è una scuola viene creata molto presto una scuola un'altra scuola di formazione su vidri per muri ehm quindi c'è formazione dei dipendenti c'è una grande eh campagna di assunzioni. Leni eh inizia anche un ehm un piano di sviluppo eh sulle strade italiane non solo di ehm distributori che vengono gestiti dall'agip ma anche di ehm di alberghi che sono chiamati motelagip che eh favoriscono l'idea di di Mattei giusta e poi in effetti la mobilità degli italiani perché venivano costruite le autostrade ricordiamo la prima autostrada italiana se non sbaglio degli anni eh no è è degli anni venti venticinque venticinque ventisei ed è l'autostrada dei laghi che da Milano va eh verso verso i laghi però in questi anni cominciano eh comincia la costruzione delle autostrade eh comunque la progettazione delle autostrade che poi diventeranno l'autostrada del sole e tutte le altre e lungo questa 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 rete di strade eh a lunga a velocissima percorrenza vengono istituiti costruiti eh dei motel dei ehm dei luoghi di sosta che sono chiamati supercorte maggiore anche anche avveniristici questo è uno che è a Milano eh adesso è stato ristrutturato eh dove venivano chiamati eh architetti che avevano quest'idea no della modernità anni sessanta eh ma comunque eh notevoli dietro c'era 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 anche adesso non c'è più il ehm il l'hotello eh quindi è un piano eh non solo di eh di sviluppo ma ecco questa è un'altra la Snam eh la Snam è una eh società che eh viene costituita per la costruzione di eh questo tipo di impianti eh Snam progetti eh fa eh impiantistica per ehm raffinerie per eh appunto strutture eh che eh trasportano eh gas e l'energia e la Snam eh società controllata dalla dall'ENI l'ENI comincia a diventare una holding ecco questo diciamolo subito già dalla metà degli anni cinquanta eh LENI diventa una holding nel senso che istituisce delle società le controlla e eh e le dà ehm a eh Mattei le dà a delle persone di fiducia Mattei ha una gestione molto eh personal personalistica ma nel senso buono del terzo cioè nel senso che lui metteva delle persone che conosceva e che erano di sua fiducia eh e c'è tutta una ecco qui per esempio abbiamo quelli che sono stati tre eh grandi ehm presidenti dell'ENI al centro abbiamo Mattei ma Macello Boldrini e poi Eugenio Cefis che sarà il suo eh successore sì erano eh anche loro nella 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 resistenza quindi erano erano stati si erano conosciuti durante la resistenza e quindi era un gruppo molto molto coeso di eh poi ci furono degli attriti con Cefis eh ci furono dei 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 forti dei forti attriti eh però ecco lui aveva scelto anche eh si si era messo vicino delle persone che conosceva e non solo che erano anche delle persone perché ce ne sono molti altri ma per esempio Marcello Boldrini era un professore di statistica della dell'Università del Sacro Cuore di Milano se non sbaglio comunque era un professore di statistica quindi era tutta gente di ehm di preparazione insomma era tutta gente preparata c'erano ingegneri i migliori ingegneri venivano selezionati eh e quindi e quindi eh l'ENI diventa una molto presto una holding estremamente eh potente estremamente potente e riesce a ehm a sviluppare i suoi piani eh velocemente perché noi consideriamo che soltanto nei eh cioè tra il 53 e il 62 sono nove anni gli anni di di Mattei viene fatto moltissimo viene fatto moltissimo e eh Mattei comincia a dar fastidio eh Mattei comincia a dar fastidio dava già fastidio quando era all'Agip dà fastidio ancora di più eh in questi anni anni cinquanta perché eh perché l'ENI espande sempre di più eh il suo il suo influsso poi diremo anche come perché cambia eh il modo di eh concepire le eh i contratti con eh le nazioni spesso eh nazioni povere o nazioni del terzo mondo del tempo ehm favorendole anche tra l'altro eh con l'aiuto dei suoi collaboratori naturalmente eh non fa tutto lui però lui è è diciamo colui che ha il pensiero strategico ehm acquisisce ad esempio eh una società che era eh quasi in fallimento che si chiamava Pignone di Firenze che diventa nuovo Pignone nel 1954 e che diventerà una società importantissima eh sotto sotto l'ENI eh per la costruzione ad esempio di ehm diciamo di eh di caldaie eh di grandi diciamo di di strutture di moto eh per le centrali eh eh idroelettriche elettriche eh impianti per la marina militare insomma nuova Pignone diventa un altro eh importantissimo asset all'interno della holding di eh dell'ENI e la nuova Pignone costruisce anche eh se non erro i distributori a un certo punto eh i compressori ad esempio perché i compressori sono importantissimi i compressori sono i compressori per esempio per le centrali elettriche sono eh delle macchine eh diciamo che che hanno anche una durata eh eh notevole e che eh e che vengono prodotti in piccola in piccola quantità e sono costosissimi e ehm e l'Italia se li produceva credo che ancora lo faccia ma ecco oggi faccio un salto all'oggi eh nuova Pignone è una società americana eh della società eh americana di Houston è stata sviluppata e fu eh fu eh la sessione della nuova Pignone avvenne nel 1992 eh sì esatto noi abbiamo fatto una eh sì sì una puntata sul 1992 qui vedremo gli effetti di questo 1992 su l'ENI quando diventa società per azioni appunto e comincia a perdere tutti questi pezzi che non erano pezzi da poco perché uno l'hai l'hai citato adesso la nuova opinione viene appunto ceduta e diventa e passa in mani in mani straniere diciamo degli amici ecco intanto diventa eh leader nel mondo o comunque co-leader nella costruzione di gasdotti oleodotti insomma quello che oggi di cui oggi si parla ecco una cosa che diremo è che mh dopo la morte di Mattei non è che l'ENI eh sparisce eh in realtà continua la sua il suo ampliamento continua a a espandersi e entra anche come dicevo prima profondamente eh a gamba tese nella chimica eh quindi è comunque fino al 92 una una realtà che eh ha fatto il suo il suo dovere nei confronti del paese che la che la ospitava e volevo dare se sei d'accordo qualche cifra no per le solite le slide fondamentale fondamentale ecco queste sono delle cifre che mh ho trovato nei nel nei libri di Nico Perrone che è un professore uno storico che ha scritto diversi libri su l'ENI su Mattei ecco per avere un'idea delle della dell'espansione dell'ENI nei suoi primi anni più primi meno di di dieci anni di vita eh le perforazioni eseguite alla ricerca di giaccimenti petroliferi nel 1955 eh l'ENI realizzò circa ventimila seicento metri di perforazioni prevalentemente in Val Padana nel 57 erano già 29.000 nel 58 41.700 nel 59 57.700 metri di perforazioni all'estero perché questo comincia a essere anche una una presenza sempre più importante all'estero fino al 62 fatidico 62 151.323 metri compresi eh paesi come l'Egitto e l'Iran che sono paesi eh fondamentali per per la la scoperta di nuovi giaccimenti petroliferi e un'altra eh un'altra un'altra cima altre cifre interessanti sulla produzione petrolifera eh dalle 75 mila tonnellate del 55 si è arrivati nel 62 ai 3 milioni 652 mila 332 tonnellate quindi questo dà un'idea eh molto di una progressione quasi esponenziale sì che che poi in realtà continua nel senso che Mattei gliene verrà fermato no come come sappiamo eh probabilmente perché tendeva a un'espansione in certe in certe direzioni in certe zone aveva pestato troppi piedi e purtroppo viene viene fermato però comunque Leny continua a eh aumentare questi volumi eh almeno fino al 92 93 quando eh c'è un secondo attentato e mh e Leny diventa anche questo poi lo si legge no in tutti i libri che sono dedicati a questa società una sorta si dice sempre di stato nello stato perché perché fa un'attività questo e questo Mattei lo voleva di lobbying come si fa in tutto il mondo cioè lui pagava eh giornalisti pagava eh politici e c'è anche un giro di tangenti questo va detto eh lui non si arricchiva lui era una persona onesta questo è stato cioè per sé eh questo è stato curato insomma lo si sa eh però insomma per far funzionare la eh la società come facevano tutti come fanno anche all'estero eh lui comincia a controllare eh una parte dell'informazione per esempio il quotidiano giorno eh giornalisti e c'è ma molti di questi anche volentieri perché insomma vedono no eh che i risultati ci sono e c'è anche un servizio vero e proprio quasi l'intelligence all'interno della dell'Eni nell'Eni eh entrano all'inizio eh personaggi che fanno parte dei servizi segreti per forza perché quando si eh gestisce eh una risorsa eh una risorsa fondamentale come quella energetica ci si trova contro eh i servizi segreti degli altri paesi per cui l'Eni fa eh addirittura può fare degli investimenti pur essendo un ente statale fa degli investimenti eh suoi anche molto cospicui enormi all'estero eh decidendo eh da sé cioè sono questi uomini che decidono non devo che non devono chiedere a nessuno quindi ha un'autonomia eh estrema già all'epoca di Mattei e questa poi continuerà comunque ancora per per diversi anni e si espanderà si espanderà eh innanzitutto dà all'Italia una sicurezza energetica che prima non aveva ecco eh non aveva neanche con l'agip ovviamente per per i motivi che abbiamo detto ehm e questo consente all'Italia di eh sviluppare un sistema industriale che è secondo soltanto a quello manufatturiero no? Secondo soltanto a quello a quello della della Germania e mh e poi si espande su altri settori che sono soprattutto questo però dopo la morte ecco arriviamo prima eh purtroppo alla ventisette ottobre del del mille eh novecentosessantadue di questo parleremo quando eh Mattei eh precipita con il suo aereo eh sopra le campagne di Bascapè dove si facevano tra l'altro delle sveglazioni ehm in compagnia anche di un giornalista americano di Time Life William McHale William McHale questo fa pensare che forse in questo caso boh gli americani non c'entrino eh può essere perché perché lui aveva dato fastidio a altri imperi anche anche se lui in realtà eh questo giornalista non doveva essere non doveva essere lì non doveva essere lì fu Mattei eh perché lui voleva intervistare Mattei Mattei aveva fretta disse dai eh vieni con me a Milano mi intervisti durante il viaggio quindi lui salì così fatalmente su questo su questo aereo eh ma non era non era assolutamente previsto comunque ne parleremo di questo ultimo viaggio eh in Sicilia di Mattei eh viaggio che lui non 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 avrebbe non era nemmeno quello in in progetto perché era era stato pochi giorni prima e fu richiamato appunto in Sicilia ma lui aveva già poi aveva avuto delle minacce da parte francese dell'OAS comunque parleremo eh ne ho avuto tante di minacce sì sì e lui è andato avanti per la sua strada quindi eh un coraggio notevole beh adesso prego no eh quindi eh il sessantadue è un anno dove fai questo ehm anche di questo parleremo eh la morte di Mattei avviene durante la crisi dei missili di Cuba certo che non fu un episodio eh leggero fu eh un momento in cui veramente si temette di 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 arrivare alla alla terza guerra mondiale con uno scontro eh nucleare tra superpotenze e chissà che questo clima così di di allarme di eh di attenzione deviata verso eh questo questo spettro di guerra nucleare non abbia favorito la eliminazione di un personaggio scomodo che eh chiunque l'abbia voluta eh si pensava magari che sarebbe avrebbe avuto meno eco con tutta la l'attenzione eh sviata ecco prego prego no no prego Mario e poi come come diremo lui stava eh per eh per siglare un accordo comunque a incontrarsi con con Kennedy eh quindi a sua volta sarà ucciso l'anno successivo comunque questo poi ne ne parleremo muore Mattei eh funerali di stato la sua morte ha un eco internazionale perché comunque era conosciuto in tutto il mondo Leny era diventata un'eccellenza Leny e le società controllate quindi anche la SNAV eh SNAV progetti eccetera e hanno diventate delle eh società eh note ehm seguono eh a lui come presidenti sono vari presidenti primo è questo Boldrini che credo sia anche lo zio della Boldrini ehm per per diciamo qualche anno eh poi c'è Eugenio Cefis che era uscito da Leny e poi rientra personaggio molto discusso personaggio che era legato ad ambienti sì della politica ehm della massoneria eh comunque uno eh che tornerà poi in inchieste eccetera e che poi improvvisamente si ritirò eh in Svizzera e questa 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 uscita di scena molto in molto improvvisa e però dopo può avere eh ecco a questo proposito ehm al di là di tutto quello che è stato scritto detto di questo personaggio eh è interessante eh quello che sosteneva perché in realtà lui ehm aveva espresso delle idee molto moderne e questo eh quello eh questi qui sono eh degli estratti del suo famoso discorso agli allievi dell'Accademia Militare di Modena tenuto il ventitré febbraio del settantadue eh Accademia che lui aveva frequentato da giovane in qualità di presidente della Montedison e si rivolgeva a a questi a questi cadetti eh in questo pronunciando questo discorso che poi fu ripreso dalla stampa eh di Estrema Sinistra per denunciare la appunto la la deriva eh del capitalismo verso una nuova una nuova mutazione particolarmente eh violenta e in effetti sono gli anni di 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 del libro eh di Cesare Cesaratto e Collu no eh Apocalisse come si intitolava ti ricordi? Eh Apocalisse e Rivoluzione Apocalisse e Rivoluzione che è straordinariamente eh efficace nel nel prevedere eh cosa sarebbe diventato questo capitalismo. Ecco eh in questo in questo discorso Cefis dice tra le tante cose è comunque sta parlando delle multinazionali eh è comunque in atto una tendenza verso l'adozione di strategie globali delle multinazionali integrate su scala mondiale e ciò soprattutto per ragioni finanziarie di programmazioni di controllo. Si tratta di un fenomeno inevitabile collegato alla logica di comunicazioni sempre più rapide e agevoli, formazione di un mercato finanziario ormai su basi mondiali, al fatto stesso che molte società multinazionali legano a loro consociate appositamente costituite a servizi per tutto il gruppo come possono essere i trasporti, la ricerca, l'ingegneria. Qui c'è già il concetto di di globalizzazione un po' di e anche di inevitabilità, no? Quante volte oggi ci dicono eh cambiamento è inevitabile eh non 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 ci sono alternative. Questo questo veniva già eh già espresso. E poi altre due citazioni. Questo è ricordiamo che è il 72. Fino a quando il nostro continente, quindi l'Europa sarà frammentato in diversi stati, fino a quando la multinazionalità potrà essere identificata con uno o due paesi d'origine, cioè con i paesi delle società madri, le iniziative delle affiliate della multinazionale dovranno sempre combattere un certo clima di diffidenza e di sospetto dovuto al fatto che i loro centri decisionali più importanti sfuggono al controllo del potere pubblico locale. E ultima citazione, la difesa del proprio paese si identifica sempre meno con la difesa del territorio ed è probabile che arriveremo anche ad una modifica del concetto stesso di patria che probabilmente i vostri figli vivranno e sentiranno in modo diverso da voi. Ecco, un commento su queste… Beh, sono gli anni del Club di Roma, sono gli anni in cui viene fondato il World Economic Forum 72-73. Quindi mi piacerebbe anche vedere se Cefis era presente a quei primi incontri. Diciamo che si parlavano tra di loro ed erano molto d'accordo perché queste sono già delle agende globaliste che riguardano l'accessione del potere multinazionale, la libertà delle multinazionali e quindi Cefis faceva parte di un altro partito rispetto a quello di Mattei. Questo è evidentissimo. Mattei non avrebbe mai detto parole simili. Sì, erano proprio due mondi diversi che sono entrati in collisione e purtroppo ha prevalso uno dei due mondi fino ad oggi, ecco, diciamo. Questi due hanno collaborato, cioè Cefis e Mattei hanno collaborato per molti anni, evidentemente anche prima della guerra, però evidentemente uno covava un pensiero molto diverso dall'altro. Ecco, negli anni successivi, se vuoi continuo in modo da, diciamo sotto la Presidente, perché poi c'erano i Presidenti e c'erano i Direttori Generali, comunque diciamo che Presidente è quello che di solito decide, viene creata la Montedison nel 66 con la fusione fra la Montecatini, società chimica e la Edison. Questa fa chimica industria, ecco, questa è la chimica, no? È tutta la chimica dei derivati, dei prodotti derivati dal petrolio, quindi materie plastiche, petrochimica, ma anche l'agroalimentare e così via. E questa diventa una società molto grande, sempre più grande e molto importante, che acquisisce anche altre società, per esempio acquisisce tutta la rete dei distributori della Shell in Italia agli inizi degli anni 70 e poi altre industrie, per esempio, questo un po' di anni dopo costituisce la Enichem. La Enichem viene costituita una ventina d'anni dopo, nell'83, sempre a San Donato milanese ed è strettamente collegata all'ENI e alla Montedison. Quindi ENI, Montedison, Enichem, Nuovo Pignone e una serie di altre società minori controllate, ANIC anche, che continua ad esistere, che fa i fertilizzanti, creano un enorme holding statale, quindi statale, ricomincia negli anni 80 ad essere definito carrozzone statale, che sì, certamente c'erano giri di tangenti, questi c'erano, infatti ci sono vari scandali ogni tanto, però queste società funzionavano, non solo funzionavano, ma davano all'Italia una sicurezza in campo energetico, in campo chimico, sul campo dei fertilizzanti e in molti altri, che oggi non abbiamo più. Per cui quello che succede a un certo punto è che arriviamo, beh sì, potrei citare anche la, a un certo punto viene acquisita anche la Lane Rossi, che è una grandissima società antica, forse avevamo, ecco sì, la Lane Rossi acquisisce la maggioranza tra il 62 e l'82, quindi questa è già una decisione di Mattei, era un'antica e gloriosa società di produzione tessile e anche cartaria, di Schio, uno degli esempi più importanti dell'industria italiana veneta, in questo caso del XIX secolo, che era diventata molto grande, eccetera. Poi a un certo punto si dice che poco c'entrava con il core business, uso una parolaccia inglese, della Eni, e allora viene dismessa nell'82, in realtà faceva fibre chimiche, quindi tipo Rayon, eccetera, quindi probabilmente c'entrava, comunque va bene. Queste sono delle decisioni che, ecco sì, la Edison e la Monte Cassini, che erano due società importanti, fondate molti, molti anni prima. Quindi l'espansione continua, non solo, ecco, una cosa che ci siamo dimenticati di dire, che possiamo dire, ecco, qui vediamo appunto Montedison, è che prima mi sono dimenticato di dire che quando viene costituita l'Eni i decisori sono della DC, però socialisti, socialdemocratici e anche comunisti si astengono nella votazione e quindi di fatto fanno passare la Costituzione dell'Eni, cioè non sono contrari, ecco, questo volevo dire. Seconda cosa, beh, seconda cosa, nel 92, cioè alla fine degli anni 80, ci sono delle, anzi no, ho visto Ferruzzi. Sì, del gruppo Ferruzzi, sì, i gardini del gruppo Ferruzzi, che a un certo punto acquisisce la maggioranza di Enimont provenendo da un settore agroalimentare che si stava espandendo nella chimica e aveva dei progetti anche lui notevoli, diciamo molto ambiziosi, che potevano cambiare il destino dell'agroalimentare italiano, che poi è stato quasi tutto comperato soprattutto dai francesi. Gardini è un altro di quelli che durante queste tangentopoli si suicida però in modo un po' misterioso, strano e poco spiegabile assieme al presidente dell'Eni del tempo, che era Gabriele Cagliari, se si deve dire Cagliari, non Cagliari, ma Cagliari, che si suicida con un sacchetto in testa nel 93 in carcere. Allora cosa significa questo? Noi ne abbiamo già parlato, Barbara, è la grande tempesta che travolge non solo l'Italia, ma soprattutto le industrie italiane e soprattutto le industrie strategiche italiane fra il 92-93, dopo il famoso viaggetto del signor Draghi su Britannia della regina Elisabetta. Regina Elisabetta che guardava come fumo negli occhi Mattei, ci sono dei telegrammi che si possono trovare facilmente, ci sono anche sui libri nei quali la regina Elisabetta, non c'è da ridere ma risata nervosa, diceva attenzione a quello lì perché, e Mattei dico, quindi siamo già prima del 62, perché ci sta dando molto fastidio. E sì, e quindi dopo il 92 che cosa succede? Beh, succede che tutte queste società vengono non subito, qualche mese dopo, un anno dopo, due anni dopo, vendute. Magari si fanno entrare delle cordate, si fanno entrare delle cordate straniere o private dentro a queste, c'è una legge che le rende poi società smiste, no? A partecipazione statale e poi di fatto private in un passaggio successivo e tra le vittime illustri c'è l'ENI, certo, valore aziendale, qui leggo 2 miliardi, più 22 miliardi di dividendi, ENEL, Finmeccanica, che è un altro fiore all'occhiello dell'industria italiana e poste italiane, che va bene. Notare il titolo, l'addio a beni pubblici, ha permesso a Roma da agganciare l'euro e rimanerci, ma tra dividendi e rialzi azionali l'Italia ha rinunciato a un tesoretto virtuale tra, sì, virtuale, vabbè. Un tesoretto, no? No, no, queste erano aziende strategiche, soprattutto ENI e ENEL, ma anche Montedison, Finmeccanica e poste italiane non lo so, probabilmente sì, meno importante comunque rispetto a queste. Ad ogni modo questo processo va avanti, è implacabile, questo processo è implacabile, cambia la classe politica tra il 92 e il 93 e arriva una classe politica che non importa che sia a destra, che sia a sinistra, che sia al centro, quasi tutta, comunque nel tempo, è d'accordo con queste privatizzazioni, perché rendono più leggero il bilancio dello Stato, ci agganciano all'euro, perché l'Europa lo vuole, gli inglesi lo vogliono, gli Stati Uniti lo vogliono. Adesso siamo in questa situazione per cui la ENI, ha la sede fiscale in Olanda, io non l'ho scoperto molto tempo fa, ma quando l'ho scoperto ti giuro che mi sono arrabbiato, ho detto una parolaccia, perché se ha la sede, ecco questo è il sito della ENI.com moderna di adesso, risponde alla domanda, cosa fa ENI in Olanda? non è una domanda, sembra un'affermazione, cosa fa il nostro lavoro in Olanda? Io dico ma chi se ne frega che siete in Olanda? Voi dovevate stare in Italia. Paga le tasse lì, in questo periodo ha rotto tutte le regole precedenti, per cui l'ENI compra l'energia a un prezzo che viene deciso da quelle parti sul metro cubo di metano, mi sembra, e che cambia di tempo in tempo, e adesso è altissimo. Quindi si è finanziarizzato, in un certo senso, si è finanziarizzato e noi ne pagheremo le conseguenze, la nostra industria ne pagherà le conseguenze. Quindi l'ENI adesso sta facendo esattamente il contrario, cioè sta danneggiando il sistema industriale italiano, quello che ne è rimasto, contrario di quello per cui era nato. Mi ero dimenticato di dire una cosa, se vuoi la dico molto velocemente, perché anche era detestato Mattei dai cattivi? Perché mentre la regola era di fare dei contratti, non so, in Iran o in Egitto, a 50%, 50-50, lui offriva fino al 70% allo Stato, diciamo, ospite, investiva nelle infrastrutture e nonostante questo c'era un guadagno dell'ENI, perché poi se si trovava il petrolio, era tanto, c'era la sicurezza di averlo. Quindi viene, a un certo punto, lui diventa un personaggio molto ambito da, non so, capi di Stato come Nasser, come gli iraniani, e lì li pesta dei piedi che probabilmente gli sono anche costati, perché l'Iran, quelle parti di, insomma, l'isola Mondo non va toccata, e anche in Nordafrica. Quindi, ecco, adesso, non so se abbiamo la fotografia, il presidente è questo signor Descalzi, questa è la moglie, Gobi, lui ha lavorato molto in Congo, il signore Pelato, come me, è un operatore finanziario, di fatto. Cioè, il modo di agire, adesso, a parte il fatto che sono personaggi molto chiacchierati per questioni che conosce la magistratura, e pare che siano totalmente intoccabili, no? Una volta, in genere, si dimettevano, comunque, va bene, adesso non entriamo in queste cose. Però la gestione attuale dell'ENI è una gestione completamente nociva, totalmente nociva, e anzi, non oso dire criminale, non so se posso dirlo, per il sistema italiano. Ecco, comunque, del resto, ho preso in mano un'industria che non era più italiana, e poi l'ha portata in Olanda. un po' come è successo a tutta l'industria, che quando è stata occupata dalla finanza, ha perso completamente tutto il suo spirito di utilità per la comunità nella quale è radicata. Nella quale è nata. Nella quale è nata. Infatti, l'ultimo logo dell'ENI, so che l'hai salvato. Sì, arriva. come quello di McDonald's, che prima era rosso, adesso è verde. È un cane a sei testi, cioè il cane dell'Agi, di Tegliere dell'ENI, che non ha più una sua energia, come prima, perché buttava fuori fuoco, fuoco che accendeva l'industria italiana, ma anela, sembrerebbe, al sole. Un po' un leone alchemico, se vogliamo. Un leone alchemico, certo. Questo è un bel accostamento. È un bel accostamento. Però qui l'addenta, no? Questa invece anela al sole, perché l'energia solare, io non lo so, vabbè, su questo si può discutere. Ad ogni modo, per avviare una conclusione che poi avvierai tu, ma si può dire che l'Italia è stata fortemente limitata nel suo potere, nelle sue prerogative, e nella sua possibilità di avere un'indipendenza energetica, esattamente come veniva detto in quei documenti che citavo degli anni 40 e 50, dove si diceva che assolutamente non bisognava lasciare andare troppo lontano Mattei e gli altri. E la cosa, diciamo, anche da considerare è che mentre altri paesi che già avevano delle loro possibilità, per esempio, del carbone, si sono dotati di centrali nucleari, ad esempio, la Francia aveva una buona percentuale della sua energia che proveniva dalle centrali nucleari. Anche la Germania. Alla Germania è stato consentito di farlo. Probabilmente perché la Germania è servita dopo l'89 a inglobare la Germania Est e quindi a consentire, io credo, insomma, anche la Nato e la UE a spostarsi verso Est. Quindi c'è una ragione di geo-strategica sulla quale si potrebbe discutere. I francesi anche. Noi no, noi non abbiamo fatto le centrali nucleari. Siamo, credo, uno dei pochissimi paesi in Europa, perché ce l'hanno anche gli inglesi, a non avere fatto centrali nucleari, quindi ad essere più dipendenti degli altri. Adesso sono dipendenti anche i tedeschi, i francesi, perché le loro centrali nucleari sono diventate obsolete, quindi per metà sono spente. Però, ecco, è singolare che nemmeno in quel campo lì, visto che a un certo punto sono arrivati i verdi, che sono una rivoluzione colorata di fatto, noi non abbiamo, non abbiamo per interessi molto alto, non abbiamo avuto, diciamo, autonomia neanche in quel campo. Però siamo circondati da centrali nucleari. Certamente. Chi parla di tornare a nucleare dovrebbe anche spiegare che costruire una centrale non è che si può fare come certe villette che vengono su praticamente da una settimana all'altra, ma richiedono parecchi anni prima di entrare in produzione, quindi se dovessimo tornare a nucleare sarebbe comunque una cosa a lungo termine, a medio termine, diciamo, e quindi non immediatamente fruibile per questa crisi energetica, che anche questa è una crisi prevalentemente speculativa. Indotta, sì, sì, assolutamente. Sì. Ecco, leggo qui, giustamente ricorda Avaloncar che tutto il patrimonio edilizio di Eni che era notevolissimo è stato svenduto, centri sportivi, centri medici, residenze dipendenti, tutti i palazzi di Metanova, che sono moltissimo altro, certo. Ed è, diciamo, sono società adesso, sì, gestite da un management che è internazionale, cioè non è più italiano, comunque a Polide, nel senso che magari, ecco, appunto, a Dubai, piuttosto che a Londra, Londra tipicamente, domani sarà Dubai. Sì, sì. Bene, allora... I simili al Nord Stream hanno chiuso il cerchio, leggo lì, sì. Eh sì, è certo, è tutto collegato. Certo. E qui, sì, speriamo, diventiamo Terzo Mondo in qualche trimestre, speriamo di no che ci sia un... però, certo, non è... non butta bene, eh, tutto quanto non butta bene. Comunque, noi stasera abbiamo cercato di fare la storia un po' del nostro paese attraverso la storia di questo importantissimo ente nato pubblico, cresciuto, sempre più proiettato nel mondo, nel nuovo mondo, del tardo capitalismo e poi privatizzato come tutto il resto nel 92 e oggi, come abbiamo visto, pesantemente influenzato dalla pura finanza speculativa. quindi è una storia che apparentemente non finisce bene, però può darsi... la storia è fatta anche di corsi e ricorsi, quindi è possibile, anche il capitalismo è stato fatto di fasi... si è sempre caratterizzato per fasi alternate di espansione e di contrazione, quindi chissà che non ci sia un ritorno, sicuramente non alle idee di Mattei che appartengono a un mondo per certi versi finito, però una riscoperta dei valori dell'importanza della comunità, della gestione in autonomia delle proprie risorse credo che sia auspicabile non solo per il nostro paese ma per tutto il mondo. Termino facendo qualche così, qualche suggerimento di lettura se sei d'accordo. No, no. Allora, in ordine sparso li ho qui. Questo è un libro su Raul Gardini, Maurizio, Fabrizio Spagna, Un suicidio imperfetto, ho la storia di questo capitano di industria molto energico, pieno di iniziative e della sua fine. Questo è un libro scritto da un magistrato, Mario Almerighi, Tre suicidi eccellenti, Castellani, Cagliari e Gardini, perché durante Tangentopoli ci furono molti suicidi, moltissimi. C'è chi ha calcolato che i morti tra collaterali e diretti sono circa un centinaio e quindi ci sarà prima o poi da riscrivere anche quella storia per capire un po' anche molto più approfonditamente il perché di questa straordinaria, questo straordinario scatenamento della giustizia. Un altro libro sempre del magistrato Almerighi, Petrolio e politica, anche qui il padre di tutti gli scandali raccontato dal magistrato che lo scoprì, quindi questo ritorno del petrolio come importante strumento del potere. Il golpe inglese da Matteotti Amoro, le prove della guerra segreta per il controllo del petrolio dell'Italia e dell'Italia di Mario José Cereghino e Giovanni Fasanella. E poi di questo ne parleremo forse più nel prossimo incontro Profondo Nero, questo è un altro libro che mette in relazione il petrolio con le stragi di Stato, il caso Mattei, il caso De Mauro che è legato come vedremo al caso Mattei e anche al caso Pasolini per il fatto che Pasolini aveva si era documentato sul caso di di Mattei per il suo romanzo intitolato appunto Petroli. Questa è solo una piccola bibliografia, metterò tutti i riferimenti, i titoli, gli autori nel box delle informazioni. Ti lascio un ultimo commento finale Mario. il commento finale non vorrei che fosse amaro ma diciamo credo che sia una storia molto istruttiva, credo che sia una storia molto istruttiva, questa qui è una delle più importanti tra le storie italiane perché in questa vicenda di Mattei e dei suoi successori ma anche dell'Agic precedentemente c'è molto del destino di una nazione che poteva diventare una potenza regionale, l'Italia, e che ha molti nemici. Noi dobbiamo capire che abbiamo molti nemici, l'Italia ha molti nemici perché potenzialmente potrebbe essere una una nazione ricca, molto ricca, molto più ricca di quanto è, adesso non perché la ricchezza in sé ma diciamo prospera e questo dà fastidio a molti, da sempre, da almeno due secoli, due secoli e mezzo e questa vicenda di Matteo segnato lì, non so perché ho lì un libro sul piano Marshall, stavo pensando a quello, stavo pensando se parlo vedere o no, questa vicenda è soltanto una delle tante che si potrebbero raccontare su questa lotta segreta, facciamole conoscere in modo che di più, insomma, in modo che ci sia più consapevolezza di quello che stiamo vivendo. E forza, e forza, ecco, un esempio italiano, certo, certo, un esempio. Quindi, quello di Schwab è un grande Reset, questo è stato un Reset non piccolo, per noi è stato grande anche questo e anche questa è una storia ancora tutta da raccontare. Bene, io ringrazio prima di tutto tutti coloro che ci hanno ascoltato, che hanno commentato, che ci hanno lasciato le loro impressioni, anzi invito proprio in previsione della puntata che dedicheremo il 27 la prossima settimana, proprio in occasione del sessantesimo anniversario della fine dell'attentato che causò la morte di Enrico Mattei, di lasciarci eventuali domande, eventuali quesiti in modo che noi possiamo trarne spunto e rispondere alle vostre domande. Ringrazio sempre con grande riconoscenza Mario Giannacone per queste importantissime lezioni che ci lascia e diamoci l'appuntamento appunto per la prossima settimana il 27 con lo speciale su Enrico Mattei. Buonasera a tutti, buonanotte, arrivederci. Buonanotte. 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 Buonanotte.